Musica Sono qui con il signor Robuschi della salumificio Antina e Cantina Luppi e un resoconto di questo Cibus 2014? Ma è stato sicuramente positivo come sempre, i contatti sono tanti, molto anche dall'estero per cui adesso i prossimi giorni poi speriamo di concretizzare buona parte di questi vedremo un po' come sempre, ripeto, ottima fiera con tanta affluenza insomma Quindi molto estero ma anche molta Italia che ricerca appunto questa qualità L'Italia come sempre però c'è sempre più interesse e per noi più sbocco verso i mercati esteri dove si punta forse anche di più però si insomma su tutti e due i fronti diciamo Qualche novità vedo appunto alle mie spalle e insomma come hanno prese queste novità sul mercato diciamo sempre più in movimento quindi hanno bisogno, la gente ha bisogno di qualcosa di pronto e veloce Qualcosa sì, infatti abbiamo puntato su queste cose leggere, spicci e veloci ma anche visto che siamo in un mondo tanti di single formati un po' più piccoli e veloci per le famiglie sempre più piccole Esatto, quindi novità, bisogna puntare molto sul mercato e quindi questo dimostra che c'è comunque una ricerca sul mercato e per stare a passo con i tempi Cioè seguire sì un po' le tendenze e le abitudini che cambiano Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille